Allora Alessio Nasato, vincitore di gara 1 del gruppo B. Alessio, grande gara e durante i due che vince questo gruppo B. Sì, non ho fatto una barra con niente, non ho risolto, si trova a recuperare, sono contento sia per la mia barra, sia per la mia barra, sia per la mia barra, quindi speriamo di fare una buona barra. Complimenti, a dopo, ciao!